E infatti il tentativo che si sta facendo oggi è quello di soffocare ogni discussione perché non venga alla luce non soltanto la gravità di quello che si sta facendo ma non si potesse denunziare, non si possa denunziare che qui stiamo sovvertendo anche la Costituzione italiana i lavoratori, la dignità e la loro libertà non è più al centro di una certa linea politica cioè quella del governo Renzi del governo Renzi e questo è l'argomento che va denunziato e questa è la politica che va disvelata al popolo italiano perché se non faremo questo non faremo altro che assecondare il governo Renzi quando gli forniamo una cortina fumogena di migliaia di articoli, di migliaia di emendamenti che alla fine servono soltanto a far dimenticare il nocciolo duro di questa questione è da questo che noi dobbiamo prendere le distanze la ringrazio, è scritta a parlare l'onorevole Ferraresi, ne ha facoltà grazie Presidente, quanto tempo ho? cinque minuti bene Presidente, il lavoro in commissione come è stato... attendo l'onorevole Ferraresi, intanto per pregare i colleghi di abbassare la voce perché sta parlando un collega e poi ne approfitto l'onorevole Ferraresi così per informazioni di tutti che essendo stata deliberata la chiusura della discussione sul complesso degli emendamenti a norma dell'articolo 85,4 e 6 hanno facoltà di intervenire una sola volta per non più di cinque minuti ciascuno i primi firmatari o altro proponente degli emendamenti che non siano già intervenuti nella discussione, sempre che non abbiano già preso la parola altri firmatari dei medesimi emendamenti cinque minuti, prego, l'onorevole Ferraresi allora a questo punto rinuncio perché non posso più parlare sul mio dopo Presidente, dopo non posso più parlare sul mio eventualmente, quindi parlare una sola volta, quindi se parla su questo ovviamente... però ormai non è che c'è il mio e il suo può fare un intervento di cinque minuti, quindi può parlare di... bene, grazie sono state già avanzate questioni molto importanti riguardanti...